Emergenza di fiuti, in piena estate nel territorio del comune di Vibonati ci sono stati non pochi problemi per la raccolta che hanno creato dei disagi oltre che ai cittadini e anche alle strutture ricettive, si va verso una risoluzione? Sì, diciamo che stiamo andando verso una risoluzione dopo nove mesi in cui abbiamo vissuto davvero una vera e propria emergenza che si è acuita in questi giorni dove c'è un notevole afflusso turistico. Finalmente siamo riusciti a cambiare i giorni il calendario di raccolta che era stato ridimensionato nove mesi fa con notevoli disagi per la popolazione, ripristiniamo la terza giornata per la raccolta della frazione organica, quindi dell'umido, ripristiniamo una seconda giornata per il secco indifferenziato e cosa più importante ci saranno anche altre modifiche che lunedì saranno pubblicate e che entreranno in vigore da mercoledì mattina. Poi la cosa molto importante è che stiamo lavorando per, è stato dissequestrato il nostro centro di raccolta e abbiamo siglato nella giornata di lunedì scorso un protocollo d'intesa con ecoambiente per scaricare tutto il secco indifferenziato che giaceva nella discarica da ben nove mesi. Quindi ci avviamo finalmente alla risoluzione di un altro problema che ha comportato disagi alla popolazione ma anche un esborso di natura economica notevole per il comune, per l'ente. Io mi sento pure di ringraziare il comandante della polizia municipale che ha lavorato in questi giorni insieme a noi per trovare tutte le soluzioni tecniche più adeguate per risolvere il problema perché non era facile con un centro di raccolta sequestrato, l'abbiamo fatto, ci è voluto un mese di tempo però arriviamo finalmente ad una soluzione.